Un gruppetto costituito da docenti e coordinatori dell'Istituto Comprensivo Lombardo Radice di Caltanissetta è volato a Yelki, in Turchia, nell'ambito del progetto Erasmus Social Media. Il gruppo, guidato dalla dirigente Bernardina Ginevra, è stato accolto in un istituto scolastico privato omnicomprensivo, annessi al campus, una fattoria, l'orto e persino un aereo adibito a sala lettura e sala computer. L'istituto Lombardo Radice è coinvolto in due progetti Erasmus, uno riguarda l'incidenza che i social hanno sulle nuove generazioni e in merito a questo progetto nei giorni scorsi è stata premiata Alessia Ventura, che frequenta la prima B della Rosso, che ha vinto il premio Il Logo Più Bello, e l'altro progetto invece verte sulle tradizioni e la cooperazione. I paesi membri che fanno parte del progetto Erasmus sono la Turchia, Romania, Bulgaria e la Polonia.